Comunque voglio darle un consiglio, lei ha una qualche ambizione e allora vada via, se ne vado dall'Italia, lasci l'Italia finch'è in tempo. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se hai le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile. Chi non lo capisci, loro vogliono, noi facciamo questo, è finita, non lo capisci, dobbiamo riuscire, dobbiamo scendere nelle piazze e rivolto a darci. Forse stiamo partendo, forse, 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 forse stiamo partendo lì. Ciao Italia, ciao Italia. Questo è il solito, il solito, il solito che poi fa, leva sta cosa, guarda che questo è un padre top secret di leva sta cosa. Non è uguale. Se non mi ricordo, adesso ne porto il padre, lei è vicino e non ha detto queste cose. Interrogazione, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.